Il disegno di legge in commissione poi ha avuto degli emendamenti in assemblea regionale e credo proprio in questi giorni sarà per essere dibattuto diciamo in aula e poi speriamo che possano dare questa nuova rivisitazione un'opportunità di sostegno a uno dei comparti produttivi più importanti della nostra provincia ovviamente a sede a Cusonaci per ovvi motivi e un pilastro importante a punto di vista economico storicamente parlando. Quali novità vi aspettate però? Allora c'è un abbattimento a quanto pare dei canoni estrattivi che dovrebbe dare il respiro agli imprenditori ma al di là di questo credo che sia corretto dare un'attenzione a 360 gradi su quel comparto che a noi per vicende anche di carattere globale, di competizione globale sui mercati sta subendo da qualche tempo una battuta d'arresto. Come amministrazione comunale quest'anno realizzeremo a settembre una settimana intera dedicata al marmo abbiamo già iniziato a lavorarci perché vogliamo riaccendere i riflettori su questo comparto a partire dal mercato quello interno, quello regionale, nazionale e poi per trovare nuovi dei mercati anche all'estero. Ecco perché alla fine del 2023 sono stato al Ministero e con il Ministro Urso c'è un'interlocuzione con l'assessorato delle attività produttive, con l'Ice insomma stiamo lavorando per ridare ossigeno e speranza ad un comparto che qualche anno fa addirittura impiegava migliaia di persone.